Questo è il Gulag. Qui si combatte per tornare in azione. Ero. 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 Vou gravar e vou mostrar para os outros que você brinca também. Ero. la tua giocità ahahahahah ahahah ahahah è stato l'altro la tua giocità granata lanciata se qualcuno ha avuto una porsetta non volirebbe tutti tiro una granata fumogena lancio una termite lancio una termite trago il la 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 guarda la 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 Sontra